Nel 2017 abbiamo trovato ed analizzato un favo di cera naturale in mezzo al bosco e le feci dell'orso. Nel trambi i casi abbiamo riscontrato nel favo di cera la presenza di sette molecole di pesticidi e nelle feci dell'orso due molecole. Usiamo talmente tanti pesticidi in agricoltura che poi ce li ritroviamo anche negli ambienti che consideriamo naturali e se ce ne sono così tanti, lontano dai campi, immaginiamo quanti possano essercele nel nostro cibo. In Trentino questo è un sistema, quello della agricoltura, che funziona, che rende, che rende tanto anche. Quindi non è neanche facilissimo raccontare, guardate che forse non stiamo andando nella direzione migliore possibile. Il documentario di Andrea Tomasi parte dal racconto di quello che accade nei Meletti del Trentino per poi esplorare la diffusione e le conseguenze dell'utilizzo dei pesticidi in Italia. È evidente che siamo in un ambiente dove le fonti di inquinamento sono molteplici, non ci sono solo i pesticidi che ci danneggiano, però ci sono delle cose che noi possiamo cambiare. Certo, ci scontriamo anche contro una mentalità, come dire, forte che viene da un passato di agricoltura fatta in un certo modo, quindi è difficile cambiare le abitudini sia dei produttori che dei consumatori. Le molecole di questi veleni si ritrovano ovunque e sono pericolose per la salute umana, questo ormai è dimostrato con dati e ricerche. Ma i malati di Trentino non sono numeri sempre, anno per anno cambiano, però parlando di medie, per l'età pediatrica sono dai 18 ai 20 casi all'anno sul Trentino. Per quanto riguarda gli adulti invece sono di più, sono dai 70 ai 80 casi all'anno. C'è una parte in cui si parla delle incidenze tumorali in Trentino. Non sono io che do questi dati, è l'AIL del Trentino, che per la prima volta dice, chiaro e tondo, guardate che ci sono alcune zone, la Piana Rotaliana e la Valle di Non, dove c'è la melicoltura, dove c'è un'incidenza tumorale maggiore. È il presidente dell'AIL del Trentino, Valcanover, che dice chiaramente ci basiamo sui trapiantati a Bolzano. Il dato è sporco perché ci si basa solo sui trapiantati e non su tutti i malati. La presa di coscienza dei pericoli dell'utilizzo di queste sostanze di sintesi è il primo passo per il cambiamento. Io li capisco i contadini preoccupati per il raccolto, però gli stessi colossi della frutticoltura nel nord Italia come in altre parti del paese, stanno iniziando a capire che il mercato sta cambiando, che la gente chiede qualità. Si sta muovendo qualcosa? È ancora troppo poco. Ci sono comunque dei piccoli e medi agricoltori bio che stanno facendo un ottimo lavoro in tutta Italia. Si guarda con attenzione al biologico perché oggi questo sembra essere l'unica via che possiamo percorrere. Io produco con un ettaro di terra 20 quintali di farro, l'altro ne produce 70, ma i miei 20 quintali io li ottengo unicamente seminando e trebbiando. Gli altri devono passare 20 volte per poter ottenere con un costo che supera ampiamente il valore del raccolto. Nel momento in cui non rispettiamo l'ambiente questa cosa ci torna indietro, nel piccolo, nel grande e alla fine ci rimettiamo in salute e ci rimettiamo in salute anche pensando ai nostri figli. Queste culture necessitano di molto lavoro manuale, di cultura manuale. Bisogna scendere dal trattore, bisogna tornare un po' indietro. In realtà dobbiamo andare avanti e un trattore quando serve va utilizzato, ma questo tipo di agricoltura industriale non ha futuro. Ci sono però già delle alternative, già sperimentate, che possono essere applicate subito. Ciascuno di noi può fare qualcosa e quel qualcosa lo possiamo fare quando andiamo al mercato, quando andiamo al supermercato, perché lì in qualche modo votiamo. Diciamo al mercato cosa vogliamo e cosa non vogliamo. Voi avete qualche suggerimento per accelerare questo cambiamento, per eliminare i pesticidi dalla nostra agricoltura? Fatemelo sapere nei commenti e poi se volete condividete il video e continuate a seguire il Bosco di Ogigia.